Il rilancio dell'economia italiana può ripartire dai fondi strutturali europei, che negli ultimi anni sono divenuti la principale fonte di sostegno agli investimenti pubblici. Nelle mani del governo italiano ci sono circa 20 miliardi di euro l'anno, per i prossimi otto anni, una cifra consistente che non deve essere sprecata. A sottolinearlo è Confindustria in occasione della presentazione del sesto rapporto sulla coesione economica, sociale e territoriale in Europa. Grazie alla politica di coesione nei principali paesi beneficiari il PIL potrebbe aumentare in media del 2% e l'occupazione dell'1% circa durante il periodo di attuazione. Per il direttore generale di Confindustria, Marcella Panucci, i fondi strutturali possono contribuire al rilancio dell'economia. Se consideriamo i fondi non spesi e l'ultimo ciclo di programmazione e quelli che noi potremmo spendere da qui ai prossimi otto anni, parliamo di circa 20 miliardi di euro l'anno. 20 miliardi di euro l'anno effettivamente potrebbero contribuire a cambiare le politiche economiche del paese e anche il volto stesso del paese, rilanciando una situazione economica che purtroppo in assenza di interventi di forte impulso e di forte stimolo rimarrà invariata da qui ai prossimi anni. Sulla stessa lunghezza d'onda il vicepresidente di Confindustria, Alessandro Laterza. I fondi strutturali nel 2007-2013 hanno temperato la brusca caduta degli investimenti pubblici in tutta Europa, non solo in Italia. Sostanzialmente la media europea nel periodo di una caduta di circa il 20%, una cifra impressionante. Quindi il tema è che se nel 2007-2013 questo è servito a moderare, a cercare di imporre argine a questo fenomeno, per il 14-20 dobbiamo puntare ancor più a sviluppare l'attenzione alla spesa pubblica in conto capitale per investimento e ovviamente avere una concentrazione maggiore perché comunque la previsione è che la spesa pubblica per investimento non avrà, non ritornerà negli immediati livelli di un tempo. Grazie a tutti.